Bene ai vecchi Drapani! Bobo 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 Questo è un bagagzzo, ed adi pai, che tocca fermarlo Comunque, oggi proviamo una squadra super offensiva Perché, come avete visto nel pack opening Abbiamo trovato Coutinho If Incredibile, fantastica E quindi abbiamo messo Coutinho C.O.C Sì, e di Mario abbiamo scavato dietro al posto di Thurée Perché tu l'abbiamo messo dall'altra parte che c'era la Miraz Esatto oh no vai ma che l'ha fatto mannaggia te Aguero ottio mannaggia te pensavo che si persa mannaggia te questo va anche il dettaglio no può esaltare ma che te sei ancora io ti dico sul primo palo una stecca rara boom ha preso ok gottino 2 vai vai entra guarda fuori chi c'è sta c'è sta va gottino fuori ma io volevo farlo grande colo guardiamo colo ma ammazza vai lo devi fare però eh si guarda guarda come cazzo lo fa lo riesce a fare non stop sto coglione tranquillo azare contro pain se lo cazzo va ma dai ma è stata ma cosa bene è stata purtroppo che si guarda il pallone no cosa bene è stata che io spingivo per far correre il caille e caille non correva chi lo sa va bene va bene va bene va bene va bene cutinio alla prima cutinio mamma mia oh mamma mia incredibile bam ragazzi insieme a Yamagula dai oh l'amore allo l'amore molto l'ora valesia magna l'oro vuoi come no l'or kugel e questa la guerra credibile quarta guarda guarda la guerra no vabbè io me ne vado colco 2 non se può non se può così ma che cos'è quel tiro io non capisco perché la guerra ha questi problemi davanti al portiere non segna mai ma io dico c'è stato tre giocatori andato da quello là che stava coperto ecco guarda guarda o neè ma colco 2 dai e poi dici che te nevi incazzato sto gioco non ce posso creer wow cioè come fa una a non incazzarsi su un tuo gioco finisce qua la prima partita è andata speriamo che la seconda due partite rimaste il secondo più è salvato siamo ritrocessi che bello mazza che è stata una stagione fantastica questa proprio da ricordare negli annali vabbè cominciamo subito la seconda cioè la quarta divisione vai perderemo vabbè però non è più la terza divisione quindi forse vinciamo rega abbiamo vinto una partita nella terza divisione incredibile è andata via in tre episodi praticamente dopo è durato un orgasmo dai ma no lui oddio mio non riesce a far passaggio guarda 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 non ci arrivo mazzarri rogo la verità siete voi che siete lì vabbè brava la verità se in più io ci arrivavo eh la pioggia non ci ha aiutato oggi che cazzo ma mi ha salvinato guarda ahahah 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 nooo 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 guarda se insegna nooo 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 non c'ho non è vero fino a mio tempo 0 a 0 oh 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 devi morire capito? qua c'è stata la trombata di ristri nooo 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 mamma mia cusigno si sono lui incredibile cazzo destro-sinistro uguale faccio un cocante ci una tanto che cazzo vuoi da me? eh la prima volta è fatto un protagente mamma mia cusigno pam oh cusigno come si eh eh se ancora la mia parte non era meglio cazzo ma non ho fatto tempo cioè era troppo del poco tempo ma era poco andava parata no no accento 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 accidento ma distante per favore con 2 stasera così che vuole del merda baffanculo non c'è posto video tutto bene ma inseris insegnare marcito no ma io che cazzo fanno? me lo ride che cosa brutto ha fatto olè di misura 1 a 0 prima vittoria della quarta divisione si torna subito in terza dai cazzo dai dai i i i